Sono il sindaco di Colaretto Giacoso, Marcello Pricco, sono un neosindaco, pertanto ho pochi mesi di esperienza e oggi sono qua ad incontrare il Presidente per capire un pochino sullo sviluppo del nostro territorio soprattutto anche per problemi di viabilità, pertanto ingresso sul nostro paese dalla via provinciale e sono accompagnato dall'ex sindaco Giovanni Mario Capirone che mi supporta appunto con tutta la sua esperienza sentiremo poi cosa ci racconta appunto il Presidente in base allo sviluppo del nostro territorio, della nostra area, del bioparco eccetera